Allora, noi abbiamo bisogno di ristabilire un perimetro di garanzie per il corretto funzionamento delle istituzioni nei prossimi mesi, non nei prossimi anni, decenni. Sicuramente questa garanzia viene data anche dalla scelta di un Presidente della Repubblica che sia appunto garante di questo. Quindi noi abbiamo avuto tre Presidenti della Repubblica consecutivi, Scalfaro, Ciampia e Napolitano, di estrazione di sinistra, molto chiara. Diciamo allora che sono stati di centrodestra, non direi, sono stati tre Presidenti, 21 anni. Allora, noi riteniamo, soprattutto alla luce dell'esito elettorale, io devo ricordare i 9.922.850 uomini e donne che hanno dato il voto al centrodestra in questa elezione, parenti di 10 milioni. Allora, questa rappresentanza non solo deve essere rispettata, ma deve essere riconosciuta. E lo si fa anche attraverso una scelta di una figura di garanzia alla Presidenza della Repubblica.